Il giorno della laurea, il matrimonio, la nascita di un figlio, una realizzazione professionale. Sono questi i momenti più importanti della nostra vita? Se li abbiamo già vissuti appartengono al passato, un tempo sul quale non abbiamo più alcun potere. Al massimo li potremo ricordare tra i momenti più belli della nostra vita. Al contrario, se li consideriamo in una prospettiva futura, non ne abbiamo alcuna certezza, rappresentando una possibilità che potrebbe non verificarsi mai. Ma allora, quali sono i momenti più importanti della nostra vita? Per rispondere a questa domanda ci viene in soccorso una preghiera che molti di noi recitano ogni giorno. L'Ave Maria. Nella seconda parte di questa preghiera diciamo Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, sono questi i momenti più importanti della nostra vita. Il momento presente, nel quale con le nostre scelte determiniamo se stare con Dio o contro Dio. E il momento della nostra morte, l'unico momento certo del nostro futuro, nel quale saremo chiamati a combattere l'ultima battaglia contro il principe di questo mondo, il diavolo.